Un giorno, un bambino che aveva scoperto il mare mi ha chiesto l'oceano. Che cos'è l'oceano? Paco Pictures e ITC Movie sono lieti di accompagnarvi in un viaggio attraverso la scoperta degli oceani del pianeta. Scoprire mondi mai visti prima. Attraverso gli occhi delle creature che li abitano. Vivi insieme a Neri Marco Re le storie che uniscono il loro mondo al nostro. La vita negli oceani. Grazie. 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 Grazie.